Passano le macchine e noi dobbiamo districarci tra di esse, però ecco vedete proprio qui guardate il terreno come è quasi sbriciolato, sembra quasi come dire a macchia di leopardo, vedete? Ed è una situazione davvero incresciosa, una situazione davvero incredibile e la situazione diventa ancora peggiore, come vedete, procedendo oltre e arrivando qui, guardate, qui poi diventa proprio quasi una gruviera, vedete? Il manto stradale che fa riemergere addirittura le pietre, guardate, guardate ancora qui e il quadro è sempre lo stesso. Fino a quando, piano piano, cammin facendo, ritorniamo, dicevo, in via Medaglie d'Oro, vedete, dove l'asfalto appunto è stato rifatto. E allora io rivolgo un appello all'assessore Spalluto. Ah, dimenticavo, mi viene in questo momento una reminiscenza degli studi classici di Dante Alighieri, quando, dopo appunto il purgatorio, ritorna verso il paradiso e dice, e si ricomincia a rivedere le stelle. Cioè, qui non vediamo le stelle, ma vediamo un manto stradale rifatto, vedete? Nuovo, via Medaglie d'Oro. Ma questi tratti, queste due lingue, appunto, che congiungono via Medaglie d'Oro a Corso Italia, sono state dimenticate da Dio e dagli uomini. Anzi, no, mi devo correggere. Sono stati dimenticati dall'amministrazione comunale. Meditate, cittadini meditate. Ah, ancora un'altra cosa. Scusate, sono tante le cose da dire che si sovrappongono. E mi diceva un amico che si occupa appunto di marmitte, mi diceva, quando io devo testare una macchina e vedere lo stato della marmitta, se la marmitta traballa o meno, sollecitata dal manto stradale, vengo qui. E proprio questo amico mi diceva, non incentrare l'attenzione perché se no chissà dove dovrei andare per testare, appunto, per verificare le macchine. Beh, ci dispiace per l'amico delle marmitte, ma qui i cittadini reclamano a giusto diritto, a giusta ragione, una strada come si deve. E quindi, come se si occupa appunto di marmitte, mi diceva, è un altro video che si occupa appunto di marmitte, mi diceva, è un altro video che si occupa appunto di marmitte. Grazie.